Tutti quei risparmiatori che non sono speculatori, chi ha speculato può rischiare, ma qui parliamo di famiglie, di persone che hanno seguito i consigli delle banche, con la banca Etruria, con le altre banche e quindi non devono pagare colpe che non sono loro e credo che anche gli amministratori delle banche dovranno essere chiamati a rispondere di questo scempio. Noi chiediamo che si rimborsi fino all'ultima lira, lo chiederemo in Parlamento e le soluzioni umanitarie, come le definite PADON, rappresentano un'offesa a cittadini che sono in questo momento indignati. Le banche andavano salvate invece quasi un anno fa, quando era possibile farlo, senza danni per gli azionisti, senza danni per gli obbligazionisti e senza danni per lo Stato. Ha deciso di non farlo, il governo piegandosi ai diktat dell'Unione Europea ha sbagliato, ha creato un danno irreversibile, comunque molto gravoso, sia ai risparmiatori che di fiducia nel sistema bancario italiano. A questo punto l'unico modo per rimediarlo è trovare una soluzione che consente il rimborso consistente, almeno, degli obbligazionisti. La commissione di inchiesta può essere una idea interessante, però a questo punto non è solo un tema di capire chi ha avuto responsabilità negli ultimi 15 anni, c'è un problema immediato che è quello di salvaguardare la credibilità del sistema bancario italiano. Persino l'Argentina ha trattato meglio chi aveva dei bond dopo il default dello Stato di quando siano stati trattati gli obbligazionisti in questo caso. E tutti in Italia erano convinti che le banche non potessero fallire.